Siamo con Fabrizio Paese che è il nuovo preparatore dei portieri della primavera giallo-blu innanzitutto ti chiedo le sensazioni di allenare i portieri di una primavera in una categoria così importante Una sensazione importante, una categoria importante fra l'altro chi ha bisogno, come ha detto oggi, il mister di riscatto quindi ci sono anche stimoli importanti per portare avanti un buon lavoro Il mister imparerai a conoscerlo, intanto il primo impatto e la prima conoscenza mi sembrano molto positive Certamente, ci conoscevamo già bene dall'anno scorso perché anche se io ero agli allievi c'era collaborazione, c'era dialogo, quindi è un allenatore con cui si può sicuramente lavorare bene e portare avanti un progetto abbastanza ambizioso Ecco, qui lavorerai con alcuni dei portieri giovanili del Verona Mancherà però Mattia Chiesa, con il quale lavorerai durante la stagione, c'è barecchio da fare? Sì, però è anche un motivo in più per far crescere questi ragazzi perché lavorando in categoria superiore certamente guadagnano qualcosa in personalità e quindi si lavora sia in prospettiva recente che in prospettiva futura Il lavoro del preparatore è uguale o diverso rispetto alla stagione quando sei in ritiro? Ma in ritiro si lavora di più, c'è più contatto, c'è più intensità perché si fanno di media due allenamenti al giorno ma grosso modo poi le varianti tecnico-tattiche sono quelle e logicamente durante la stagione ci sono ritmi diversi anche perché ci sono problemi di scuola, di frequentazione diciamo che qua si fa il grosso del lavoro ma soprattutto si creano i concetti si conoscono i concetti sia di comportamento che di rendimento sul campo Grazie! 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 Grazie!